Questo è il nodo piano. È un nodo di giunzione che serve ad unire due corde di diametro uguale. È un nodo molto resistente e si è sottoposto ad una trazione continua. Vediamo come si fa. Per fare un nodo piano basterà fare due nodi semplici, prima in un verso e poi nell'altro. Il primo, la corda blu passa prima sopra quella gialla e poi sotto. Poi nel verso opposto passerà prima sopra e poi sotto. Grazie. Grazie. Grazie.